Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse Ti benedico, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto queste cose nascoste ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui il quale il figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Gesù fa sgorgare dal suo cuore un enno di dove, gioiosa, si rivolge a Dio con una confidenza unica, lo chiama Padre, perché in questo nome sono rachiusi per Gesù la tenerezza, l'amore e la misericordia. Dio lo si adora come Signore, lo si invoca e si farà a Lui come a un Padre. Gesù lo invoca e confessa la sua fede in Lui. Padre, proclamola a Lui la riconoscenza e la tua volontà per il tuo operare, ciò che hai nascosto a quanti erano convinti di meritarlo. Lo hai rivelato invece ai più piccoli, che non vantavano alcun merito. Gesù non condanna i saggi e gli intellettuali di questo mondo. Egli si rivolge a costoro, ma essi non accolgono la sua parola e così facendo induriscono orecchi e cuori e non sono capaci di aprirsi alla buona notizia del Vangelo. Gesù ci invita a prendere il suo gioco, perché c'è il gioco costruito in tutti gli esseri umani, che racchiude comandi, precetti, osservanze e intrasigenze. E c'è il gioco di Gesù, che è l'accoglienza dell'amore e della misericordia di Dio, dell'amore dei fratelli e delle sorelle. Il gioco di Gesù non è senza fatiche, ma è faticare per amore e per ricevere amore. Sono i vincoli, però capiscono questa rivelazione.